Nell'ambito delle iniziative per il quarantesimo anniversario della propria fondazione, l'Aido Bassa Romagna ha organizzato un forum virtuale tra autorevoli esponenti di religioni diverse e laici sul tema della donazione degli organi. È importantissimo che tutte le religioni siano disponibili e favorevoli rispetto alla donazione, ma tra i nostri soci tantissimi non sono praticanti. Ci sono però delle molle molto forti all'interno delle persone che portano a questo gesto e sono rintracciabili nell'articolo 2 della Costituzione che porta a far sì che oggi faccio questo per te perché ti è necessario, oggi ti aiuto e se avrò bisogno qualcuno mi aiuterà, tu o un altro del nostro gruppo. La religione cattolica incoraggia la donazione degli organi, anche perché la donazione è proprio nella natura del cristianesimo e c'è bisogno di questa cultura del dono. Certamente la religione islamica consente sempre di essere favorevoli a, in prima fila, l'essere umano. L'essere umano è sempre in prima fila, penso e sono sicuro, in tutte le religioni, non solo nella religione musulmana, perché la religione è una parola di Dio e Dio ha dato dignità all'essere umano, quindi la religione musulmana è sempre stata favorevole alla donazione degli organi per salvare una vita umana.